Agente, mia moglie è scomparsa, è uscita ieri sera e non è più rientrata a casa. Ok. Qual è la sua altezza? Non ne sono sicuro. Intorno a un metro e cinquanta, sessanta. Ok. Peso? Non so esattamente. Colore degli occhi? Verdi, penso. A dire la verità non me ne sono mai accorto. E che colore sono i suoi capelli? Beh, quello cambia continuamente a seconda del parrucchiere da cui va. Che vestiti indossava quando l'ha vista l'ultima volta? Un vestito rosso o blu? Non so esattamente. Quando è partita per andare chissà dove, è andata in macchina? Sì. Di che marca è la macchina? È un Audi da 560 cavalli ad alte prestazioni. Colore grigio, argento, metallizzato. Molto particolare. Ha otto marci. Il cambio è all'altezza del volante. Un motore V12 da 6,35 litri che genera almeno 560 cavalli di potenza. Ha un pacchetto super performante Z51. Cerchi in lega più grandi dei normali. Sediglia avvolgenti GT color rosso acceso. Navigatore satellitare intelligente. E purtroppo un piccolo graffio sottile sulla maniglia della porta anteriore sinistra. Non si preoccupi, signore. Troveremo la sua macchina.